Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Telibrea sul canale 178. Mettiamo da parte il maltempo, c'è stato due giorni, ieri abbiamo scherzato sulla opportunità di creare, forse ci vorrebbe un comitato tecnico un po' più attento sulla questione delle allerte per non esagerare, però alla fine, ripeto, chi si è guardato si è salvato, dicono gli antichi e quindi alla fine accettiamo tutto questo. La situazione quindi da noi non ha presentato alcuna difficoltà se non qualche allagamento, niente di particolarmente preoccupante, l'acqua però fa bene e possiamo ringraziare il cielo che sia venuta e che continua a venire nel modo giusto senza esagerare. Invece c'è il problema sempre dell'economia, non vi voglio parlare della situazione, ieri il Premier ha detto una cosa simpatica che fa riferimento al 110%, che è un'ottima iniziativa. Il Premier sarebbe Giorgia Meloni, la Premier ha detto che ha fatto riferimento a Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, che avrebbe dichiarato in una sua intervista che grazie al Movimento 5 Stelle la gente ha potuto sistemarsi la casa gratis, è stato un regalo, il Movimento 5 Stelle ha fatto un regalo, la Premier ha detto sì bel regalo, ma dobbiamo però dire che questo regalo è costato agli italiani 40 miliardi di Euro, perché ragazzi il 110% erano soldi comunque che lo Stato ha preso dalle sue casse per darle alle aziende che avevano fatto il lavoro permettendo ai cittadini di risparmiare. Bello, probabilmente era un investimento per far muovere l'economia, ma come dice la Premier 40 miliardi erano un po' troppi. Ed ecco perché si è deciso di scendere questo bonus e però io dico che se anche si facesse una cosa del genere col 75% credo che converrebbe, a casa mia l'abbiamo fatto col 90% ed era già una grande comodità, col 75% non sarebbe neanche male, devi rifarti la facciata, spendi il 25% soltanto, divisa fra i condomini, il 110% è stato un po' esagerato anche perché poi sapete che sul 110 ci sono state speculazioni, imbrogli, vabbè. L'altro problema riguarda la Lucoil, in questi giorni si dovrà parlare della Lucoil che per noi in Sicilia è importante perché praticamente mancherebbero migliaia di posti di lavoro, ci sarà una riunione, ci sarà anche il Ministro Urso che sarebbe il Ministro dello Sviluppo Economico, non so come si chiama, che ogni volta si cambia governo il Ministero cambia nome e cambiano le carte intestate, ora c'è scritto per… c'è le carte intestate hanno cambiato, immagini quanti soldi spendono per fare la carta intestata in tutta Italia con questa aggiunta sviluppo e ambiente. Non si può parlare di nazionalizzazione perché in altri paesi lo fanno, da noi sarebbe troppo lunga, l'unica sarebbe di in qualche modo derogare da questo blocco dell'importazione del petrolio. Io credo che è arrivato il momento di fare tante deroghe, è arrivato il momento di dire anche all'Ucraina con tutto il rispetto che questa situazione ci porterà alla rovina di tutto e trovare per forza una soluzione, non si può sempre vincere, ma noi siamo stati invasi, non c'è dubbio, avete recuperato, ora è il momento davvero dopo tutti questi morti di chiudere questa storia. Andiamo a Vittoria, apriamo il nostro telegiornale con queste immagini perché è stata soprattutto una bella giornata di legalità, il sindaco Aiello aveva deciso di intitolare una strada di Vittoria, questo colonnello Iannizzotto, poi sono due fratelli, due colonnelli, tutte e due, perché Vittoriesi, anche se poi il colonnello a 80 anni è morto a Castelletto, non a Vittoria, ma vengono da Vittoria, quindi il sindaco ha deciso di intitolare una strada della città di Vittoria a questo personaggio che ha avuto una vita particolarmente interessante come ufficiale dell'arma dei carabinieri e quindi ha voluto anche creare un momento di legalità, invitando tanti ragazzi, lo vedete, il coro, insomma è stata una bella giornata per ricordare, possiamo dire un eroe dei nostri giorni, non di quelli che hanno fatto chissà che, ma gente che ha rispettato lo Stato, ha fatto sempre il proprio dovere. Allora sentiamo l'intervista fatta al sindaco Cicciaiello del perché si è deciso di fare questa intitolazione, vediamo.